Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il successo di Stefano De Martino è strettamente legato alla sua famiglia. Oltre ai genitori, il conduttore può contare su una sorella minore di nome Adelaide, che non solo lo supporta emotivamente, ma anche sul lavoro. Adelaide, che ha 5 anni in meno di Stefano, è diventata da poco mamma di un maschietto, avuto con il manager Diego Di Domenico. Si dice che sia stata proprio lei a ispirare Stefano a intraprendere la carriera nella danza, quando lo accompagnava alle lezioni da piccolo. Adelaide è molto attiva sui social, dove collabora con brand noti e conta quasi 130.000 followers attivi. Anche se meno conosciuta rispetto al fratello, ha un seguito notevole online. Si è trasferita a Milano per essere vicino a Stefano e ha lavorato nel negozio che lui aveva inaugurato in città. Oggi Adelaide è considerata il braccio destro di Stefano, occupandosi della logistica e risolvendo i problemi che possono presentarsi. Durante la lunga relazione tra Stefano e Belen Rodriguez, Adelaide era molto legata alla sorella dell'Argentina, Cecilia, e al suo fidanzato Francesco Monte. Tuttavia, un indizio social condiviso da Adelaide ha contribuito alla rottura definitiva tra Stefano e Belen. Nel 2023, quando circolavano voci di crisi, Adelaide ha smesso di seguire Belen su Instagram e ha eliminato le foto con lei dal suo profilo. Nonostante i rapporti freddi con le sorelle Rodriguez, Adelaide può contare sull'affetto del nipotino Santiago. La sua presenza nella vita di Stefano è fondamentale e il conduttore non esita a definirla la sua problem solver. La famiglia De Martino è un pilastro importante per il successo e il benessere del conduttore, che non smette di ringraziare Adelaide.